Il sottone vi leggo Giovan, vi consiglio un mondo alla sua, e mi chiede che bella e bella il tuo caffè. Anche quello caffè, pure cagli rosana fa, quale c'è una cacicerina, un magno di cena, c'è una chiantata mamma. Se una pagina vende notizie, non è tutto in giustizia, lo Stato che fa, si costretta, si piglia, si meglia, poi getta la spuglia con credibilità. Il cervello è il suo vale pronto, per fortuna c'è chi mi risponde, a quel luogo c'è stissima e mezzo, io chiedo un consenso a Don Raffaea. C'è un uomo che tiene i suoi figli, ha chiesto una casa e ci danno i consigli, e l'ossessore che Dio lo perdone, dentro all'osso ci tiene di soli. Non vi basta una mossa, una voce, questo Cristo ci leva la croce, con rispetto se faccio le tre. Volete spremuto, volete un caffè, ah che bello caffè, pure cagli rosana fa, quale c'è una cacicerina, la compagno di cena, c'è una chiantata mamma. Ah che bello caffè, pure cagli rosana fa, quale c'è una cacicerina, la compagno di cena, c'è una chiantata mamma. Grazie. Grazie.